Buongiorno sono Eugenio Sartarelli del sito www.investimentinvincenti.it il sito che parla di analisi intermarket, analisi statistica, analisi ciclica e opzioni. Oggi volevo parlare di volatilità storica implicita sul nostro indice SMPNIB 40 e sul DAX. Oggi è martedì 4 novembre. Vediamo i dati aggiornati a settembre della volatilità storica sul nostro indice e qui uso solo la volatilità storica perché la volatilità implicita Borsa Italia di fatto non ce la dà, quindi bisognerebbe calcolarla molto più complicato. Sul DAX vedremo anche la volatilità implicita perché questa ci viene fornita e la troviamo anche su EU. Abbiamo la volatilità storica a un mese, 3 mesi, 12 mesi, questo a settembre come vedete valori massimi intorno al 30, poco più di 30%. Vediamo cosa è successo poi con l'impennata. Come vedete, prima i dati erano questi qua, vedete come si è impennata la volatilità con il ribasso fortissimo, l'ultimo ribasso fortissimo, con volatilità storica a un mese che è arrivata a oltre il 80%. Cosa vuol dire l'80%? Intanto è annualizzata questa volatilità, vuol dire che praticamente scontava al mercato una possibilità di perdita dell'80% o di guadagno dell'80%, quindi è una cosa devastante, forse solo nell'87 si sono aggiunti questi valori di volatilità storica. La cosa interessante che vi devo far notare è che a parte che siamo rispetto al valore medio storico, che io considero elevato, cioè al 30%, siamo quasi al triplo. Questi dati sono aggiornati a lunedì 3 novembre. Ma la cosa interessante, vedete in questo punto qua, cioè intorno al 10 di settembre, si è stato un triplo taglio, cioè la volatilità blu, azzurra, cioè a un mese, ha tagliato quella a 3 mesi, 12 mesi, praticamente nello stesso punto, poi c'è questa impennata di volatilità col taglio verso l'alto, della volatilità breve rispetto a quella lunga, in genere si prepara un movimento ampio, non sempre ma spesso, ampio e in genere a ribasso, perché la volatilità storica e anche implicita aumenta soprattutto durante i ribassi. Ora, la volatilità storica sappiamo che è a ritardo, quindi ancora sui massimi, certamente se vedremo nei prossimi giorni scendere questa volatilità storica, soprattutto questa azzurra, e tagliare ancora meglio quella rossa a ribasso, vuol dire che il minimo del 28 ottobre, che è intorno a 18.600, è un minimo molto importante, quindi questo è un supporto, certamente, che dovrebbe resistere per parecchio tempo. Andiamo invece a vedere la situazione sul DAX, dove ho detto abbiamo anche la volatilità implicita, e vediamo proprio esattamente la volatilità implicita, che è la volatilità delle opzioni, praticamente, è la volatilità che giustifica il prezzo delle opzioni. Anche qui, vedete, c'è stata un'impennata di quasi 75% di volatilità implicita, quindi valori pazzeschi, considerando che i valori più alti sui minimi di gennaio e di marzo di quest'anno sono stati poco più del 30%, quindi abbiamo avuto oltre il doppio di volatilità, qui vedete che la volatilità in realtà ha fatto un massimo implicita intorno al 74-16 ottobre, e un secondo massimo il 28 ottobre. Se i prossimi giorni, cioè questa settimana, anche approfittando il fatto delle elezioni presidenziali americane, nel taglio dei tassi della BCE di giovedì 6 e di una serie di dati che usciranno venerdì 7, molto importanti, potrebbe spingere il mercato più verso il rialzo e soprattutto far scendere la volatilità, il che ci indicherebbe che il minimo del DAX intorno a 4.300 è un minimo importante ed è un minimo quindi che dovrebbe resistere per un certo periodo di tempo, perché la volatilità stessa ce lo indica. E anche qui voglio vedere comunque la volatilità scendere almeno intorno a 40, per avere una maggior confidenza su quanto detto. addirittura la media a due anni, come la media storica è intorno al 20%, quindi siamo arrivati a livelli pazzeschi, giusto per farvi vedere, vi faccio vedere che nel ribasso del 97 e il ribasso dell'11 settembre siamo arrivati al 58% e non è caduta nessuna torre, nessun attentato, nessuna guerra, niente di tutto questo, oppure abbiamo avuto un panico pauroso. Andiamo a vedere quello che faccio vedere ogni tanto, le differenziali delle due volatilità, in blu abbiamo la volatilità storica, scusate implicita, del DAX e in rosso quella storica 30 giorni, se il DAX la calcolo su 30 giorni di borsa perché è giusto per paragonare quella volatilità implicita. In verde c'è il differenziale delle due volatilità, la cosa interessante è che quando la linea verde che è il differenziale delle due volatilità attraverso la linea dello zero, che è questa, dal basso verso l'alto, in genere vuol dire che il movimento in atto sarà un movimento di una certa entità, cioè sarà un movimento, sarà un trend sano. Ora qui come vedete attualmente, cioè intorno al 22 ottobre, questo differenziale ha fatto un minimo e adesso sta cercando questo differenziale di superare la linea dello zero. Non l'ha ancora fatto, però certamente se lo farà e continuerà il rimbalzo ci indicherà che il rimbalzo potrebbe essere un rimbalzo abbastanza robusto e interessante da cavalcare. Bene, penso di avervi letto tutto sulla lettura della volatilità in piccina storica. Vi saluto di Eugenio Sartarelli www.investimentivincenti.it www.investimentivincenti.it